Qui succede una cosa veramente molto particolare, cioè i due violini suonano due musiche da carattere diametralmente opposto, sono anche due titoli diversi, la mia parte più melodica e la mia invece che rappresenta appunto le furie, e la cosa fantastica è l'effetto che fa insieme. Il compositore che facciamo ascoltare adesso, Luciano Berglio, fa esattamente la stessa cosa, facciamo un salto di due secoli, andiamo nel novecento, e nei primi due duetti che eseguiremo, che sembra che sono bellissimi, un violino fa una cosa e l'altro fa qualcosa di completamente diverso. Questi duetti hanno praticamente la caratteristica di essere tutti dedicati, come vedete, hanno un nome, Camilla, Alfredo, erano tutti degli amici del compositore e lui cercava in qualche modo di rappresentare la personalità di questi amici in musica. Adesso sarebbe troppo lungo ad entrarsi in ognuno di questi, anche perché non ha detto che adesso abbiamo proprio tutte, e vi facciamo sentire questo Camilla, in cui sentirete i due violini che fanno due cose completamente diverse. Grazie. 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 Grazie.